Vi state chiedendo quali sono i giochi in uscita a gennaio? Vediamoli insieme! Hitman Bloodman in Reprisal La remaster di questo classico è stata lanciata su iOS e Android lo scorso novembre. Il 25 gennaio uscirà invece su Nintendo Switch. Nonostante sente inevitabilmente il peso degli anni e sarà alloccato a 30 fps, conserva una struttura piuttosto corposa ed è un ottimo omaggio ad uno dei capitoli di Hitman più amati di sempre. Phantom Abyss è un gioco multiplayer a sincrono di massa che catapulta il giocatore in una caccia al tesoro unica ed estremamente particolare. Lanciato in Early Access nel 2021 e approdato successivamente nell'ottobre del 2022 grazie al Game Pass su Xbox Series X ed S. Il 25 gennaio sarà rilasciata finalmente la versione completa con ulteriori miglioramenti e nuovi contenuti. Il prossimo gioco in uscita su Switch, Xbox e PlayStation è il titolo giusto se volete rilassarvi perché Hidden Through Time 2 Might & Magic porta il tanto amato puzzle game a nuove vette. I giocatori visiteranno mondi 2D splendidamente illustrati e disegnati a mano, basati su miti, leggende e folclore da tutto il mondo per cercare a scovare gli oggetti di personaggi nascosti sfruttando in modo intelligente i suggerimenti creativi forniti dal gioco. Questi sono i giochi che usciranno il 25 gennaio. Vi aspetto al prossimo video ma potete trovarmi anche in live sia su TikTok che su Twitch.